Allora, sono andato al Consiglio Comunale, sono andato a vedere il Consiglio Comunale mercoledì 20 mi pare, o 21, e ho visto anche il primo Consiglio Comunale, l'ho visto in video perché Destieri ha fatto un bel video dove voleste vedere tutto. Cosa noto? Mi devo dire la mia, perché sennò non sarà veltidio che parla chiaro. Noto una cosa, noto, i ragazzi dei 5 Stelle, cioè la maggioranza, la giunta, tutti così, così, ve lo giuro, tutti così, seri, siti. All'opposizione, qui che rappresenta i partiti, cioè qui che sta su Fia adesso, qui che doveva avere fatto Fia adesso ma non ha fatto niente, qui che tra l'altro ha fatto Mariani a tal punto che adesso, quest'estate, non che sia un evento, non che musica nessuna parte. Ogni volta che questi dell'opposizione, questi partiti, parli con la maggioranza, lo fa con un tono di sgridare. C'è proprio che dice roba. Ma ora mi dico una roba, guardate bene che mi conosce ben tutti e so che lo guardate questo video quanto dell'opposizione. Guardate, rappresento i partiti, no? Anche se qualcuno di voi altri non così mai sta in comune e gli altri invece che si esasta e se ne vante anche, ragazzi, se quelle 5 Stelle che deve dire roba a voi altri, se voi altri che avete fatto Mariani Fia adesso, loro li deve riparare i vostri Mariani. Quindi sia chiaro, sto atteggiamento che aveva, vetto leppere il culo da soli, come figura, scusami l'espressione, de merda. E anche con tutti gli altri, perché mi auguro, perché ho visto che il streaming non si andrà bene, infatti comunico già dal video a quelli comuni e streaming da essere, perché la gente ha da vedere cosa che succede dentro il comune, durante il consiglio comunale, ma consiglio alla gente di guardare e anche di chiedere il permesso del presidente del consiglio comunale e di fare una cosa fatta bene, fare il video ogni volta, che sia qualcuno che fa un video, perché a volte i cittadini dovrebbero guardare cosa che succederà. C'è questi ragazzi impegnati che si fa un culo così e loro dell'opposizione, che dice roba, ogni volta che parla dice roba, cioè i 5 stelle, si è che sbaglia tutto, secondo l'atteggiamento che ha questi qua, sbaglia tutto. Ragazzi dell'opposizione, se i partiti politici, i partiti politici, fino adesso, a roba in acciosa, se i ragazzi vogliono fare qualcosa di nuovo, sei loro che devono dire roba a voi altri, i 5 stelle all'opposizione non devono dire roba, e noi lo fa, perché sei brave persone, e si è che fa le cose diligentemente. Demo che hai la possibilità, e non stai a montare la testa, che il vostro gioco dei partiti politici, ha se finito. Grazie a tutti.